Un'altra iniziativa del BCC di Fano mirata al mondo giovanile, ormai avete preso gusto a queste cose. Ci stiamo divertendo, volevo dire che è un percorso un po' più articolato, un po' più ampio, però nello specifico ci siamo rivolti alle idee dei giovani. Quindi stiamo chiamando i giovani e facciamo appello alle loro idee, li mettiamo insieme in un vero e proprio laboratorio, è un'officina, mettiamo a disposizione la parte finanziaria per la realizzazione, noi ci auspichiamo, di tutti e quattro i progetti, che sono quattro aree tematiche interessantissime. Nello specifico anche l'area del marketing territoriale dà il senso di questo progetto, perché è un progetto rivolto che richiama i giovani a dare il contributo fattivo alla propria comunità. Quindi nel momento in cui i giovani si stanno appellando al mondo interconnessi, internazionale, noi gli stiamo dicendo di tirar fuori quelle idee che possono essere utili a valorizzare la loro comunità. Entro ottobre noi ci auspichiamo che tutti e quattro i progetti vadano in porto, il Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione una cifra che orientativamente dovrebbe essere di circa 15.000 euro per la realizzazione di questi progetti, se sono quattro bene, se ne sono di meno è la stessa cosa. Ci auguriamo di ritrovarci e di dire che questi sono i progetti, questo l'abbiamo fatto.